buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video come al solito video particolare in cui andrò a spiegare e a fare chiarezza su questa nuova notiziona del google play store lo store principale predefinito di tutti i smartphone android che permette appunto come tutti gli store installare app il formato delle app di android l'estensione ad esempio cos'è un estensione io prendo un io faccio tasto destro proprietà l'estensione è punto pdf l'estensione dei dei file android estensioni file punto apk via un altro formato introdotto da google nel 2018 ed è il file punto a a b android app bundle è un nuovo formato di applicazioni android che appunto esiste già da un po non è nuovissimo che va a facilitare la vita sia agli utenti sia al play store e ai sviluppatori lascia like e iscrizione grazie a tutti le novità di questo nuovo formato sono parecchie infatti è un pacchetto android più ottimizzato e più leggero da scaricare infatti è il 15 per cento più piccola di una pk ed è anche più veloce nella disinstallazione qua molte informazioni non vi sono ve le sto dicendo così inoltre quella che secondo me la novità più importante che le app si possono firmare questa decisione di rende appunto non vi ho detto la notizia questi formati abb ora sono obbligatori per sviluppatori da inserire nel play store poche parole non verranno più accettate nuove app con formato apk per le vecchie app non cambierà nulla assolutamente nulla potranno essere ancora aggiornate ed eseguite su tutti i smartphone android quindi non vi preoccupate a chi è più smanettone chi cerca app craccate deve stare tranquillo perché tutte le apk di tutti i store tipo l'amazon store apk pure e altri store alternativi sono con sono ancora eseguibili tutte le app e si possono scaricare di quelle con formato apk inoltre il pacchetto di installazione sarebbe già in grado di installare app a ab non provenienti dal play store il problema che questo formato ce l'ha solo il play store secondo me questa è una mossa per le novità che vi saranno nel microsoft store in cui saranno possibile seguire app android secondo me è una mossa per appunto limitare questa funzione e che e dovranno facilmente agirabile perché dovranno garantire anche la compatibilità per questa estensione ricordiamo che è firmabile cosa significa che uno sviluppatore nel file della dell'app può inserire suoi dati e che è stata scaricata dal play store da quale serve è firmata questo garantisce anche una maggiore sicurezza e attendibilità della pk delle app scusa dell'abitudine oltre a una maggiore sicurezza e tracciabilità di degli sviluppatori che pubblicano le sue proprie app sul play store e una maggiore tracciabilità di tutti i malware che potrebbero essere già preinstallati nell'app vi sarà anche una funzionalità per scaricare le app a pezzi diciamo questa novità può essere molto sfruttata nei nei giochi perché ad esempio un gioco a livelli che ha appunto dei livelli tu inizi dal primo e vai avanti non c'è bisogno di scaricarli tutti subito ma a pezzi prima ad esempio i primi 10 poi altri 10 ad altre implementazioni di questo tipo è molto più veloce e reattivo meno pesante sulla ram del dispositivo e permette anche l'installazione di aggiornamenti più piccoli quindi non serviranno aggiornamenti cumulativi per varie app ma sarà molto più facile fare dei piccoli back fix grafici o di sicurezza ovviamente questa introduzione dell'obbligo dei sviluppatori che al momento si si trovano un po in difficoltà perché se stavano lavorando su un'app da qualche mese da qualche anno ovviamente si troveranno un po interdetti però a lungo andare sarà molto vantaggioso per tutti questo nuovo formato inoltre da come fa intuire google da dal suo blog che in un futuro però sarà obbligato non saranno più sopportati i file apk su android ovviamente si tratta di un futuro lontano ma neanche troppo infatti si potrebbe parlare già da android 17 se ci android e 17 che potrebbe non sopportare più i apk sottolineiamo che anche questo è un file completamente open source ma nonostante questo anche un'altra funzione di sicurezza cioè che è più facile criptare i file ovviamente sì le apk sono iconiche di android ma erano diciamo obsolete per questo sistema operativo che è sempre più diffuso che è sempre più importante file inoltre ha una struttura leggermente diversa perché è più esperto capirà tutto questo grafico questo qua è com'è strutturato il file inoltre novità importantissima in grado di far personalizzare al google play store l'installazione in base al dispositivo quindi un'installazione ottimizzata proprio per quel dispositivo co spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima